... Manolovic in palleggio, segnalato il passivo, Manolovic il tiro ed il gol. ... Velocità squiziato, tiro, l'area spinta di Ferrari che si fa trovare prontissima su questa conclusione a tu per tu. Manolovic in favore del team Campano che ora ne porta a 10. ... 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